Perché in fin dei conti esistono due atteggiamenti, o quello difensivo o la gratitudine. Allora tu ti puoi difendere dalle cose che ti accadono oppure puoi essere grato per le cose che ti accadono. Tutte, non solo quelle che tu cataloghi come cose belle. Essere grato anche di una cosa brutta, perché in fondo anche quella cosa brutta ti ha donato qualcosa che fino a quel momento per te era inimmaginabile.